Gentili amici di Riviera 24 e San Ramon, a tutti ben ritrovati e buonasera. Ora, dopo la saccatura e il fronte transitato ieri, che ha dato una quantità intorno ai 27-28 mm di pioggia sulla nostra riviera, ci volevano, ora possiamo parlare di una parentesi anticiclonica. La prossima perturbazione, peraltro debole e mi pare da nord-ovest, transiterà il prossimo lunedì. Ma vediamo quello che ci riserva tutta la struttura della circolazione dell'atmosfera sulla nostra zona, sull'Europa. Vecchia depressione ormai in Adriatico con il fronte che sta per abordare la Grecia, però noi adesso dobbiamo guardare questo anticiclone delle azone che spinge e pian piano si installerà sulle nostre zone. Parlavo prima del fronte di lunedì, uno di questi fronti avrà una traiettoria più meridionale e ve l'ho detto, lunedì magari causerà qualche annuvolamento e forse qualche precipitazione solo nell'entroterra. Quindi nessun problema per le nostre zone, che vedranno un cielo sereno o poco nuvoloso, un vento debole, 5-15 nodi di direzione variabile, 30 km all'ora, a regime di brezza sulla costa, il mare poco mosso, a 13 gradi, magari ancora mosso a largo. E le temperature direi che sì, sono un po' fresche di primo mattino, magari domani ci potremo svegliare con una temperatura fra 5 e 7-8 gradi, ma di pomeriggio è facile che tocchiamo i 15-16 gradi. Questo io direi fino a tutto domenica. Lunedì cominciamo a parlare di un aumento della nuvolosità e probabilmente un po' di instabilità nelle ore più calde in montagna. Non diciamo altro, ecco, no, magari che potrà rinforzare un po' il vento da ovest-sud-ovest, il mare diventare temporaneamente mosso. Le temperature impassibili, non impossibili, impassibili, che non sentiranno questa perturbazione. È tutto, buonasera.